Novità in arrivo in occasione dell'evento tanto atteso nella città di Teramo, la Coppa Interamnia, quali saranno? Rispetto a quello che possiamo supportare noi per la Coppa, vorremmo, e stiamo organizzando chiaramente in coordinamento anche con le organizzazioni della Coppa, ma noi riteniamo che è un momento in cui la città di Teramo avrà forse uno dei picchi maggiori per quanto riguarda la pubblicità della città e quindi noi pensiamo di inserire all'interno di questa manifestazione anche lo sviluppo di alcuni prodotti tipici, vinicoli, e quindi stiamo organizzando questo insieme all'organizzatore. La location sarà il teatro romano? Come location è il teatro, non è detto che sia dentro, stiamo organizzandoci perché noi vogliamo sviluppare, oltre alla tradizione enogastronomica, anche la nostra storia, quindi per dire a chi arriverà, chi siamo e cosa abbiamo. I numeri della Coppa ricalcano quelli della passata edizione, con circa 120 squadre provenienti da 28 nazioni. Sarà una Coppa dai capelli biondi, visto che tra le curiosità segnalate da Fabrizio 40, braccio destro del patron Pierluigi Montauti, c'è quella della delegazione danese, e in assoluto la più numerosa, con ben 44 squadre e oltre 700 presenze. La Kermes, anche quest'anno, ospiterà delegazioni significative di paesi medio orientali, tra cui quella iraniana. Grazie a tutti.